E' stato travolto mentre scaricava della merce e morto così, nella notte un operaio di 38 anni, in un incidente sul lavoro in un'azienda di logistica in strada Macchia Grande, a Borgo Santa Maria, periferia di Latina. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili. Insieme ai paramedici, anche i carabinieri del comando provinciale e il personale Spresal, ovvero i tecnici che si occupano della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, per cercare di ricostruire quanto accaduto. E così si allunga l'elenco degli infortuni sul lavoro nel Lazio. Viterbo detiene la maglia nera con un aumento di oltre il 102% rispetto al primo bimestre del 2023, secondo gli ultimi studi della Cigelle su dati forniti dall'INA. La provincia di Roma fa registrare un più 7,6%. Il lieve calo invece è Frosinone, 285 rispetto ai 288 del 2023, ma anche Latina con 531 infortuni nel 2024, mentre erano stati 610 nell'anno precedente. E Rieti fa registrare 182 sinistri sul lavoro a fronte dei 186 dello scorso anno.